buongiorno e benvenuti a quarta di copertina la rubrica di obiettivo news realizzata a rivarolo calavese che parla di libri ma anche di editoria in generale di arte di musica e di tutte quelle realtà e quelle progettualità che ruotano intorno al mondo di chi ama leggere di chi ama scrivere proprio per questo oggi vi propongo di fare una passeggiata chiaramente virtuale in canavese di andare a scoprire un paese veramente molto bello molto carino lo faremo con pamela valerio che oltre a essere una giovane mamma ha trovato il tempo a castelnuovo nigra per realizzare una bellissima biblioteca e fornire alle persone che amano i libri anche tanti servizi che permettono anche di ammirare il territorio e vedremo durante questa puntata in cosa consiste questo sistema per amare il territorio scoprire il panorama bellissimo che si può godere dalla piazza di castelnuovo nigra e allo stesso tempo amare i libri e cercare di valorizzarli di portarli vicino ai lettori pamela tu sei attiva da settembre del 2020 e come ti è venuta l'idea di portare una biblioteca a castelnuovo nigra allora è nato come tante delle mie idee per gioco nel senso che lessi un articolo su un club del libro le dieci regole per mantenere vivo un club del libro e mi piacque molto lo pubblicai su facebook dicendo che mi sarebbe molto piaciuta l'idea di crearne uno appunto e nel giro di tre o quattro giorni ricevetti un sacco di risposte ecco tu vivi proprio a castelnuovo nigra sì 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 e vedendo gente interessata comunque mi sono mi sono cimentata ho provato ho pensato a un nome a un logo e ad eventuali una serie di libri da leggere durante l'anno e niente quindi ad agosto 2020 abbiamo avuto il primo incontro con i con i futuri partecipanti del club abbiamo deciso un pochino come organizzare il tutto però mi serviva una location chiaramente e tenendoci particolarmente che fosse nel mio nel mio paese ho puntato sulla biblioteca che non era mai stata utilizzata in nessun modo quindi era proprio da zero bisognava mettere a posto i libri e sistemarla eccetera e in quattro giorni l'ho sistemata con l'aiuto di un paio di amiche che sono venute a darmi una mano e siamo riuscite in quattro giorni a fare già un buon un buon lavoro ecco un progetto che ha attecchito subito che è piaciuto e che quindi adesso sta andando avanti e guarda al futuro la dimostrazione che quando si fa qualcosa per sé che serve anche agli altri spesso come dire ci si viene in aiuto l'uno con l'altro sicuramente il sostegno del sindaco enrica caretto non è stato indifferente perché ha subito accettato di ospitare la biblioteca all'interno del comune quali sono i primi problemi che hai riscontrato qual è stato magari l'ostacolo più più duro per partire ma in realtà pensavo pensavo di trovarne ma no perché comunque le persone che ho coinvolto nonostante siano di zone differenti da castelnuovo nigra hanno avuto voglia di venire e di partecipare nonostante la distanza e quella era la mia preoccupazione più grande perché la zona è un po al di fuori e quindi avevo paura che non non accettassero insomma che fosse un impegno troppo troppo gravoso invece per adesso è un anno che comunque riusciamo in modi differenti chiaramente a incontrarci e sviluppare le serate e tutto quanto ecco quindi è nato prima il club del libro e poi la biblioteca un club che si chiama equilibriamoci quindi già un nome che è un programma intanto vedo che la nostra regia fa scorrere delle immagini che tu ci hai fornito e che illustrano sia un po i punti panoramici di castelnuovo nigra sia all'interno di questa biblioteca che tra l'altro è molto accogliente e poi vedremo anche un argolino speciale ma non voglio rivelare nulla perché ne parleremo dopo quindi il club del libro si è formato quante siete anche perché siete riuscite siete più donne più uomini solo donne siamo più donne sì c'è anche un uomo che che tiene duro e vorrei però speriamo che gli uomini all'ascolto accolgano l'invito e decidano di di aggregarsi e l'età più o meno ma allora dai 27 28 anni fino ai 60 ci sono maestre impiegate professori è abbastanza eterogeneo ecco è aperta a tutti e siete riuscite a superare anche le difficoltà legate al problema del covid perché comunque la quarantena l'avete affrontata organizzandovi via internet come ha funzionato questo servizio ci siamo organizzati su meet come ormai avvengono tutte le tutte le riunioni e magari non erano tutti presenti logicamente perché stare al computer tutto il giorno magari anche la sera non si aveva più tanto piacere a farlo però siamo sempre riusciti due o tre incontri li abbiamo fatti così e adesso a fine mese in realtà dovremo riuscire a vederci di nuovo in presenza dal vivo dal vivo ecco io sono stata a vedere la vostra sede molto bella dalle finestre si gode un panorama mozzafiato e mi fatto notare che alcune cose sono state anche proprio donate diciamo prestate per esempio lo splendido tappeto quindi c'è stato anche un aiuto concreto per realizzare questo angolo al servizio di tutti chi poteva ha messo del suo certo sia il tempo che gli oggetti e quant'altro il passaggio dal club del libro equilibriamoci poi verso il diciamo la realizzazione proprio del progetto biblioteca come come si è svolto il passaggio è stata una cosa naturale sì 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 perché a me è sempre piaciuto quel quell'angolo del del comune dove è sita la biblioteca quindi avevo già chiesto in passato se era possibile occuparmene e libri ce n'erano già? Libri ce n'erano tanti quasi tutte le donazioni e quindi adesso con le mie capacità limitate li ho divisi per genere e tutto quanto dopodiché subentrerà presumo la biblioteca di Ivrea a cui abbiamo chiesto la collaborazione li catalogherà correttamente e poi si aprirà anche lì una serie di progetti con con la biblioteca quella centrale. Ecco io sono un po' una sostenitrice delle biblioteche nei piccoli paesi perché io stessa sono cresciuta in un piccolo paese quindi l'idea di portare i libri vicino ai bambini significa anche favorire l'amore per la lettura e l'avvicinamento dei piccoli poi ai libri alla biblioteca a quello che è il prestito e la restituzione dei volumi. Al momento come siete organizzati? Adesso semplicemente io in maniera cartacea mi segno tutto quello che c'è da sapere quando qualcuno viene a ritirare i libri dopodiché appunto quando subentrerà la biblioteca di Ivrea ci forniranno il programma apposito e verrà fatto tutto online come si fa in tutte le biblioteche. Adesso quindi chiunque può accedere alla biblioteca in che orari e in quale giornata? Due pomeriggi a settimana il mercoledì e il venerdì per adesso dalle due e mezza alle cinque e mezza valuterò strada facendo se magari è meglio modificare orari o quant'altro in base all'affluenza della gente perché comunque a Castenuola Negra la gente inizia ad arrivare adesso perché è un luogo di villeggiatura quindi dovrò capire come che orario prediligere. Ecco ci sono delle scadenze vicine proprio alle registrazioni della nostra trasmissione per attività che stanno partendo. Sì, il comune ha organizzato per il 26 di giugno la giornata delle panchine viola, l'assessorato alla gentilezza se ne occupa che coinvolgerà quindi i bambini e mi hanno chiesto di leggere un racconto sulla gentilezza appunto prima di far dipingere ai bambini queste panchine. Come hanno risposto questi ragazzi comunque con entusiasmo? Si dice che i giovani non amano a leggere ma non è così? No, spero di no, almeno la mia bambina che mi accompagna sovente in biblioteca prende sempre tre o quattro libri alla volta. E quanti anni ha? Quindi ne ha cinque e mezzo. E poi ne hai uno più piccolo? Si, di uno e mezzo. Quindi li stai avvicinando già da piccoli a questo ambiente. Secondo te che sei lì e quindi vedi un pochino quali sono i prestiti, l'età degli utenti eccetera, l'utente medio ha una certa età, voglio dire i giovani sono più abituati a leggere online, a usare gli ebook? Presumo di sì, però mi auguro che comunque è un servizio che non c'è mai stato, quindi sicuramente è una novità, la gente si deve anche abituare e spero che pian piano si aumentino le persone chiaramente. Equilibriamoci ha una sua pagina Facebook, quindi lanciamo anche questo appello, se qualcuno all'ascolto ha piacere di avvicinarsi al club del libro di Castelnuovo Nigra e ha voglia di avere informazioni sulla biblioteca può farlo tramite la pagina Facebook di Equilibriamoci che è proprio il club del libro che voi avete fondato da quasi un anno possiamo dire a questa parte e oppure può rivolgersi a te direttamente o al comune o a te direttamente tramite sempre la tua pagina di Facebook così per diritto alla privacy non divulghiamo numeri telefonici eccetera. Progetti estivi, so che tu hai recentemente coinvolto sempre alcuni volontari tra cui anche tuo marito che salutiamo perché è un sostegno non da poco e avete fatto anche una sorta di salotto vero e proprio nella piazza, vuoi parlarcene? Sì, volevamo realizzare una zona per il book crossing che ormai tanti comuni stanno realizzando, abbiamo un bellissimo angolo nella piazza già panoramico con due belle panchine, fiori, tenuto molto molto bene e abbiamo realizzato una casetta, una casetta in legno dove abbiamo appunto fornito dei libri noi, un sacco di persone ne hanno già portati e l'idea è quella che si possa sia prendere e portare libri e leggerseli poi autonomamente a casa piuttosto che sedersi sulle panchine e mentre si guarda la bella dormiente si può leggere. Ecco il book crossing ultimamente sta abbastanza spopolando perché molti paesi lo fanno, anche paesi che magari non hanno una biblioteca ma si avvicinano a centri che ce l'hanno proprio per poter usufruire dei volumi. Questi libri che vengono messi a disposizione dei lettori provengono dalla biblioteca, possono essere donati, se qualcuno all'ascolto ha dei libri e vuole donarli alla biblioteca lo può fare? Certo, io per adesso dipendendo da me prendo qualsiasi cosa vogliano offrirci, ecco dopodiché la cernita verrà fatta da Ivrea. Ma anche per quel che riguarda il punto di book crossing? Il book crossing invece è proprio libero. Siete liberi, potete gestirvi come volete. Io ho messo qualcosa della biblioteca perché c'erano anche dei volumi doppi o molti volumi delle stesse collane quindi ho già messo qualcosa a disposizione e poi ho visto già che un po' di persone hanno portato altre cose. Come mai ti hai deciso, ti sei dedicata a questo progetto? Tu sei una persona che ama leggere. Sì, 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 da sempre. Sì, sì. Il progetto è nato in lockdown e quindi è stato pesante stare a casa e dovevo per forza inventarmi qualcosa e quindi è nato per quello. Quindi è nato anche per cercare di impegnare la mente e il tempo in casa. Tu sei una persona che ha sempre letto anche da piccola? Sì, sì, da sempre. Quali generi? Abbastanza eterogeneo. Mi sono avvicinata adesso ai gialli grazie al club perché volevo appunto ampliare anche io stessa la sfera, il raggio di lettura, però abbastanza tutti i generi, biografie, romanzi. Come funziona il vostro club? Cioè scegliete insieme un testo, cosa avete fatto finora, parlaci un po' di come si svolgono le attività perché credo che ci siano delle immagini forse anche scattate durante una delle vostre riunioni, quindi si vede questo gruppo. Di solito in quali orari vi incontrate? Di solito il mercoledì alle 9 di sera. Il mercoledì alle 21. Basta presentarsi? Sì, certo. Quindi se qualcuno all'ascolto vuole entrare a far parte può tranquillamente presentarsi? Allora lì no, mi dovrebbero avvisare nel senso che comunque il libro va letto il mese prima, quindi quella serata lì dovresti già averlo letto. Un incontro al mese? Un incontro al mese. C'è un mercoledì, non so il primo? No, no, lo decidiamo un po' in base agli impegni. Quindi forzatamente bisogna contattarvi prima per sapere, per organizzarsi. Finora più o meno quanti libri avete affrontato? Sette, otto, pressa poco. Sì, sì, da settembre dell'altro anno. Sì, perché poi c'è stata la pausa internet. Esatto, esatto. Poi ci sono stati libri più o meno lunghi, giornate più o meno impegnate, però comunque 6 o 7 siamo riusciti a... Puoi dirci qualche titolo? Così anche chi ci ascolta può... Allora il primo lo scelto io, chiaramente, perché l'idea è partita da lì. Ho scelto Emma di Jane Austen, perché è la mia scrittrice preferita, quindi mi piaceva coinvolgerla. Dopodiché abbiamo letto Piccole donne, Sotto Natale, perché andava bene. Sì, poi parla di neve, l'atmosfera c'è. Esatto. Abbiamo letto la biografia di Frida Kahlo. Molto interessante. Proprio sotto il periodo della mostra che avrebbe dovuto esserci a Milano, che poi hanno posticipato, dovrebbe esserci adesso. Adesso abbiamo letto un giallo, La verità sul caso Enrique Bern, che è un bel tomo da 800 pagine, però sono riuscita a farlo leggere bene o male a tutti quanti. In un mese sono riuscite? Sì. Beh, complimenti. Sì, io l'ho letto in 5 giorni, però... E beh, tu però sei un'elettrice seriale, come si dice. Chi magari non è un addetto ai lavori può... No, infatti eravamo un po' titubanti, però sono stati tutti molto contenti. Non è mai successo di proporre una lettura e poi trovarsi di fronte a un muro per la serie No, sta roba proprio no. No, no, no. Poi c'è stato chiaramente in discussione a chi non è piaciuto il libro in questione, logicamente, però hanno sempre letto tutto volentieri. No, 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 no. Abbiamo provato sia a votazione, sia scegliendo un tema e poi proponendo titoli solo relativi a quel tema, sia coinvolgendo la pagina di Facebook, facendo votare gli iscritti alla pagina. Quindi il gruppo comunque è unito. Sì. Forse sono io che non mi ricordo. Quanti sono? Siamo più o meno a 13. Ecco, poco più di una dozzina di persone. Queste non è un posto comodo da raggiungere, però ci si organizza. Mi sembra di aver capito. Sì, anche perché una volta al mese si può fare, finché riescono e hanno piacere a farlo ben volentieri. Quindi la lettura diventa anche un momento per socializzare. Per l'estate state pensando, a parte questo primo approccio con i piccoli e le panchine viola, mi parlavi anche di eventi. Quindi se qualcuno all'ascolto desidera proporre dei libri per fare delle presentazioni estive, le farete presso la piazza? Sì, mi piacerebbe presso la piazza in caso di bel tempo, chiaramente, se no in biblioteca, logico. Il lockdown ha segnato un po' le attività di tutti. In questo caso ha aiutato, favorito questo progetto in qualche modo. È una di quelle attività che grazie al lockdown ha potuto crescere e svilupparsi. Sì, credo di sì. Sia un po' per il tempo di tutti, sia per il piacere di svagare un attimo la mente. Qui in redazione, non lo vedete o a volte lo vedete, a volte no, tra me e l'ospite c'è un plexiglass di separazione, si entra con mascherina, quindi la trasmissione viene registrata in totale sicurezza. Voi all'interno del comune, per i vostri momenti di riunione di Equilibriamoci, quali strategie utilizzate per rispettare comunque le norme di sicurezza? Perché magari chi ha l'ascolto dice sì, però poi siamo tutti all'interno di uno stesso ambiente, può essere pericoloso. Invece quali sono i sistemi che avete scogitato? Allora, l'unico incontro che siamo riusciti a fare prima del secondo lockdown è avvenuto con le mascherine, il distanziamento. La sala comunque è grande e permette di stare abbastanza distanziati. Sì, sì, sì. E a fine mese altrettanto. Sedie o divani? Un divano e un po' di sedie. Quindi comunque il distanziamento anche fisico della sedia permette di attivarsi in maniera... Certo. Poi adesso che fa bello, preferirai che questo incontro venisse fatto all'aperto, ci stiamo organizzando per farlo o nella piazza... Quando farete il prossimo? Il 30. Il 30 di giugno. Quindi il 30 giugno vi troverete alla sera in piazza, sempre vicino alla capanina del book crossing? Sì, se fa bello sì, se no in biblioteca. Quindi questo potrebbe già essere un altro momento in cui chi ci ascolta e ha voglia di partecipare può avvicinarsi. Sì, certo. Quali sono i progetti futuri a cui vorresti dedicarti in particolare? Hai un sogno nel cassetto legato a questa biblioteca? Adesso mi piacerebbe che il club diventasse un'associazione riconosciuta. Ah, questo è importante. Quello mi piacerebbe. Ma mai questo step? Qual è la parte importante? Ma perché se comunque la gente rimane così coinvolta e vedo che c'è affiatamento, mi piacerebbe renderla effettiva e poter fare più eventi, più programmi, più idee, certo. Mi piacerebbe proiettare dei film, fosse possibile, magari legati al libro che si è letto durante durante l'anno, piuttosto che... Magari la riedizione cinematografica di qualcosa che avete letto. Beh, io colgo l'occasione per salutare l'associazione che negli anni passati in Vale Sacra aveva proposto il cinema all'aperto, quindi chissà che non si possa proporre magari una sinergia di forza per portare... Sono già informata per collaborare, eccetera, e se fosse fattibile ben volentieri, sicuramente. Ecco, tu hai una famiglia giovane e vivi in un paese piccolo. Sfatiamo il mito che nei paesi piccoli si vive male. No, anzi, secondo me l'hanno capito anche in tanti adesso, che non è vero che si viva male. Ecco, tu mi avevi detto quando abbiamo visto la biblioteca che ci sono in effetti famiglie giovani che cercano di trasferirsi in Vale Sacra o comunque nei paesi per recuperare un po' magari anche la casa della famiglia, diciamo così. Sì, sì, secondo me sì. Poi non siamo così distanti dalla città, quindi si può tranquillamente vivere. Se dovessi descrivere Casterno Onigra come lo descriveresti? Ma io sono cresciuta lì, perché i miei nonni sono nati lì e quindi passavo tutte le estati. Io lì lo considero l'unico posto in cui non mi può mai capitare qualcosa di male e quindi ci sono molto legata. Non è stato per me un problema andarci a vivere, nonostante le difficoltà e tutto, sono contenta. Poi è logico che magari con l'andare del tempo qualche difficoltà subentrerà con i bambini magari cresciuti e le esigenze che cambieranno, però si vedrà. Poi le prospettive di vita ormai sono le più ampie possibile, però c'è una copertura internet perché mi dicevi che riuscivate comunque, quindi la posizione del paese invita comunque a reinventarsi per poter vivere anche a Casterno Onigra, che è a quanti metri sul livello del mare più o meno? 800? Quindi comunque un luogo già di montagna in cui si sta cercando di portare anche della cultura. Ricordiamo Castelnuovo-Nigra, un tempo sale Castelnuovo, è il luogo in cui nacque e crebbe Costantino Nigra, quindi uno dei personaggi storici più importanti dell'Italia, ma che si fece onore anche sullo scenario internazionale. Quindi anche un modo per riscoprire un angolo di storia. Venire a Castelnuovo-Nigra a vedere la biblioteca, ammirare la panchina del book crossing e prendere magari dei libri può servire anche a riscoprire personaggi storici e angoli storici del nostro canavese. Una domanda che può venire in mente a chi ci ascolta, perché io cerco sempre di cogliere quelle che possono essere le esigenze dei nostri ascoltatori. Tutti possono accedere sia al book crossing, sia alla biblioteca, sia al club del libro? Non soltanto ai residenti? No, 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 certo. Chiunque. Quindi chiunque può partire, fare una passeggiata, fermarsi alla capannina e dedicarsi per un momento al book crossing. Esatto. Tu che sei sempre vissuta a Castelnuovo-Nigra, mi hai fatto fare il tour e abbiamo visto anche un'aula di una piccola scuola. Ti sei mai chiesta l'emozione di stare in quei banchi, magari tanti anni fa, in un paese piccolo? Eh, mia nonna c'è stata, quindi ha fatto scuola lì. È piccolina, è molto raccolta, però l'hanno tenuta per ricordarlo. E da mamma ti piacerebbe avere i tuoi bambini in una scuola così piccola? Ma allora, loro vanno a Colleretto, la scuola è piccolina, è raccolta, però non troppo. Secondo me ci va una via di mezzo. La preferisco a una scuola magari di 20-30 alunni che non vengono magari seguiti proprio personalmente. Quindi secondo me per adesso è una buona scelta. Quindi approfittiamo di Quarta di Copertina anche per invitare eventuali famiglie giovani. A iscriverli. A iscriverli, a vedere come si vive in un paese piccolo, perché io stessa a volte a Torino mi trovo con persone che dicono ma è difficile vivere in un paese piccolo, è scomodo, è lontano. Invece no, c'è comunque la volontà di fondo di portare i servizi vicino alle persone. È vero che questo dipende molto anche dalle possibilità dell'amministrazione e da quante persone intendono portare avanti questo discorso. Però mi sembra che con Enrica Caretto, il nuovo sindaco, stiate lavorando in questo senso. Sì, assolutamente. Ha subito accettato le mie proposte, è molto contenta e hanno tante idee. Quindi se si possono sviluppare col tempo è tutto di guadagnato. Come funziona l'organizzazione di una biblioteca? Perché magari qualcuno dei nostri ascoltatori vive in un paese dove sarebbe possibile organizzarla ma non so, non sa da che parte cominciare. Tu come hai cominciato? Ma io ho cominciato senza nessuna base, in realtà l'ho fatto a mio... ho provato, insomma. La biblioteca non esisteva, i libri erano tutti negli scatoloni e quant'altro. Mi sono messa lì e a mio modo li ho sistemati, divisi per genere e autore. Ho contattato tramite un'amica la biblioteca di Locana, che è una biblioteca anche piccola, che comunque vive di turismo. Mi hanno un po' spiegato come funzionava, mi hanno parlato appunto del progetto Erasmo della biblioteca di Ivrea, che poi coinvolge tutte le biblioteche della zona. E allora da lì ho iniziato ad aprire, perché comunque quest'estate mi faceva piacere avere già il posto in ordine. Dopodiché se la biblioteca di Ivrea mi sistemerà adeguatamente i libri... Ecco, come funziona da un punto di vista burocratico? È complesso oppure è accessibile ed è facile avviare la vita di una biblioteca? Ma no, io non ho riscontrato difficoltà. Ripeto, mi hanno lasciato carta bianca, quindi per adesso va bene così. Ecco, entrare in rete con la biblioteca di Ivrea significa entrare in rete con tutte le biblioteche del territorio. Questo da un lato tutela i libri stessi, perché se la biblioteca dovesse chiudere comunque i volumi vengono in qualche modo rilevati, tutelati. Dall'altra offre ai lettori, se non sbaglio, un servizio in più, perché nel momento in cui io voglio un libro il sistema mi dice dove posso trovarlo. Esatto. Come Castelnuovo Nigra avrete un settore particolare di libri o offrite una vasta gamma di assortimento? Adesso c'è una vasta gamma. Sì, c'è di tutto. Poi presumo che in base alla gente che fruirà della biblioteca si capirà più o meno su cosa puntare. Le scuole sono sempre un po' un'incognita, perché se si ha la fortuna di avere anche delle insegnanti che hanno voglia di partecipare, possono essere un buon serbatoio per allevare il lettore di domani o avvicinare i bambini alla lettura. Hai pensato a progetti in questo senso? Sì, una delle maestre delle scuole della zona è nel club, quindi si potrebbe sicuramente coinvolgere. L'avete già sequestrata, quindi... Sì, e poi comunque sempre da Ivrea, ritornando sul discorso, mi hanno detto che comunque di solito si tende a coinvolgere le scuole della zona, farle venire ogni tot e dare la possibilità ai bambini di scegliersi un libro da leggere poi a casa. Ci sono dei periodi in cui si possono prelevare e tenere i libri a casa, cioè vanno restituiti nell'arco di un mese, due? Io sì, ho stabilito un mese. Un mese? Sì, sì, sì. Per adesso sì. Basta avere la tessera, venire, ripetiamo gli orari? Mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30. Presso il comune di Castelonigra? Sì, se cambio gli orari, tanto io pubblico sempre la locandina giornata e la pagina del comune farà altrettanto. Invece per sapere quando il club del libro si riunisce, ricordiamo si chiama Equilibriamoci, consultare la pagina Facebook di Equilibriamoci o contattare il comune oppure contattare direttamente Pamela Valerio sulla sua pagina Facebook. Esatto, lì bisogna per forza contattarmi prima, io gli spiego un po' come funziona, se vogliono partecipare o meno, dopodiché se vogliono in quel mese leggeranno il libro. E alla serata verranno con... Prossima serata, mercoledì 30 giugno alle 21, nella piazza, quindi all'Aperto, sperando che non piova. Quindi un momento per confrontarsi, ecco magari qualcuno si fa il problema, però tu hai parlato di gente che fa l'insegnante, eccetera. Invece no, basta amare la lettura e amare i libri. No, no, è molto amichevole. Molto amichevole, molto informale. Adesso d'estate all'aperto, quindi non dovrebbero esserci problemi. Continuerete tutta l'estate o vi fermerete per agosto? No, no, continueremo, certo. Essendo anche Castelnuovo Nigra un punto turistico e anche un modo per riscoprire. Tra l'altro Castelnuovo Nigra un tempo era veramente una meta turistica, per qualche anno si è preferito andare verso località più esotiche. E poi uno dei vantaggi del lockdown è proprio stato il ritorno, se non sbaglio, di molte famiglie che hanno trascorso l'estate passata, l'estate 2020, di nuovo a Castelnuovo Nigra. Quindi popolando le piazze la sera, quindi anche un luogo piacevole da scoprire. È un luogo che ha, credo, ristorazione e ha una politica di ricevimento anche dei suoi ospiti, dei suoi visitatori. Quindi approfittiamo di questa trasmissione che parla di libri, ma come vedete non solo, perché si parla anche di chi vuole avvicinare le persone alla lettura. Io invito chi ci ascolta e magari vuole raccontare come Pamela la sua esperienza e il suo progetto a quarta di copertina per trovare altre persone che amano leggere, che amano scrivere e momenti per confrontarsi. Vi invito a contattarmi a deborabocchiardo.gmail.com per venire nella nostra trasmissione, raccontare il vostro progetto, la vostra idea, come ha fatto Pamela Valerio. Chi invece fosse interessato al gruppo Club del Libro Equilibriamoci, basta presentarsi il 30 giugno, però è meglio prendere contatto prima. Quindi potete contattare Equilibriamoci tramite Facebook, col comune oppure direttamente Pamela Valerio. Quindi chi vuole conoscere qualcosa in più su questo Club del Libro, la Biblioteca di Castelnuovo Nigra, può farlo. Per l'estate è in via di realizzazione un calendario di eventi, sempre lì, con presentazioni di libri. Dico bene? Sì. Ecco, anche lì distanziati e quindi si sarà all'aperto con le sedie comunque a distanza di sicurezza. Bene, noi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Ringraziamo Pamela Valerio per essere venuta a trovarci e a raccontare questo bel progetto per rendere ancora più bella la vita di un piccolo paese già molto grazioso che noi vi invitiamo a scoprire. Vi diamo appuntamento alle prossime puntate. Quarto di copertina non va in vacanza, quindi se volete venire a raccontare il vostro progetto, parlare del vostro libro, contattatemi all'indirizzo deborabocchiardo.gmail.com. Si entra con mascherina, tra me e l'ospite c'è un plexiglass di separazione, quindi l'intervista è realizzata in totale sicurezza. Grazie per averci seguiti e arrivederci.